Sendo Comiasi, Rosario Crocetto è il nuovo governatore della regione Sicilia, una vittoria carica di significato che molti interpretano come un segnale di svolta. Un commento su questo risultato e secondo lei cosa si dovranno aspettare i siciliani per il futuro? Per l'intanto è stata la vittoria dei siciliani, i siciliani hanno compreso il messaggio di Rosario Crocetto che è quello che la legalità può essere una leva poderosa di sviluppo, una cosa semplicissima, piuttosto che fare i brogli, la mala amministrazione nella gestione del rifiuto, dell'acqua, queste consulenze sprecate, milioni di euro buttate solo per favorire gli amici. Riportiamo un po' di legalità e vediamo un po' di affidarci alle competenze di chi veramente ha a cuore le sorte della Sicilia e comprende i problemi, non possiamo noi avere e sopportare 2 miliardi di euro di deficit sui rifiuti perché ci siamo messi alle mani di incompetenti totali, per non dire altro. Quindi io sono ben contento, guardate, sono contento, questa bella cavalcata, sono contento perché ho un rapporto molto bello con Rosario Crocetta, gli sono amico, lui è voluto venire a Rocco Lomera, è stato l'unico comune in tutta la Sicilia, piccolo comune, il quale ha tenuto un comizio. Per me questo è un grande onore, significa veramente che mi tiene in grande considerazione, come io tengo in grandissima considerazione lui perché ritengo lui la persona capace insieme a tutti noi di poter cambiare, di poter riportare la legalità nella Sicilia. Durante la campagna elettorale in più comizi si è parlato anche di rivoluzionare, fra virgolette, per quanto riguarda non solo la spassatura, l'acqua, insomma, ritornare a consegnare queste cose in mano ai comuni. Ma infatti queste le prime cose che verranno fatte, quelle che abbiamo detto nei comizi in tante parti, in tante piazze della Sicilia, il sistema dei rifiuti deve tornare a essere il sistema a gestione comunale, il sistema dell'acqua deve essere a gestione comunale, la formazione non può essere semplicemente un sistema che ingrassa i detentori, i proprietari dei centri di formazione, ma deve raccordarsi con il mondo del lavoro. E che cosa sarà mai se non la rivoluzione della dignità, come dice Crocetta? Restudiamo la dignità alle persone e le persone rispondono in maniera civilissima e in maniera contenta di questo fatto, quindi in maniera costruttiva oltretutto. Vedremo un poco se riusciamo a dare un'inversione di tendenza alla Sicilia. Per dare questa inversione di tendenza, il governatore purtroppo non dispone di numerare Lars, quindi quali potrebbero essere le alleanze che potrebbero portare il governatore a una gestione tranquilla? Guardate, se voi pensate di comprendere il Rosario Crocetta inquadrandolo in uno degli schemi vecchi della politica, non riuscirete mai a comprenderlo. Crocetta dice una cosa semplicissima, io pongo dei problemi e pongo anche una ricetta per risolvere i problemi. E andiamo per ordine e spacchettiamo i rifiuti. Volete che continui a produrre centinaia di milioni di euro di debiti oppure volete restituirla ai comuni trasformando una risorsa che in questo momento è una palla al piede effettivamente in una risorsa? Questo è quello che dice. L'acqua, la stessa cosa. Volete che l'acqua costi 2,50 euro al metro cubo oppure che continui a costare 60 centesimi? Io vorrò vedere nell'Assemblea regionale siciliana chi si opporrà a problemi di questo genere oppure ad esempio quello di assumere, fare assumere alle imprese con una esenzione degli sgravi fiscali. Solo i pazzi penso che non si opporrebbero a una cosa del genere. Che cosa dobbiamo? Dov'è l'inghippo finora fatto? Che tutto è stato fatto in maniera, direi, maniacale a favore degli amici, cretini o intelligenti che fossero, competenti o incompetenti, purché fossero fedeli. E infatti questo è il risultato in cui ci troviamo. Anche lei, sindaco, ha partecipato in prima persona alla tornata elettorale regionale nella lista numero 12, Movimento Politico Rosario Crocetta Presidente, dove nella sola provincia di Messina ha totalizzato 9.203 preferenze. Lei, sindaco, ha raccolto in totale 917 voti piazzandosi al quinto posto per numero di preferenze. Si ritiene soddisfatto? Strasoddisfatto, io sono felicissimo non solo del risultato che ho ottenuto, ma soprattutto del piccolo ma consistente apporto che ho dato alla campagna di Rosario Crocetta. Guardate, tanta gente, io non ci ho pensato due volte e si vede bene quello che ho passato, giusto? La presentazione della mozione di sfiducia, l'abbandono di due assessori. Veramente è stata, adesso lo posso dire, una relazione scomposta che non aveva significato né politico né umano. Mi spiace proprio che si siano aperte delle ferite, almeno per me così profonde dal punto di vista proprio umano. Ma che motivo c'era? Io ho fatto una scelta che era la scelta dell'idealità, era la scelta del cuore, era la scelta di chi ritiene che sia giunto il momento di voltare pagina. E quindi veramente non ho tradito nessuno, ho obbidito semplicemente al mio ideale. Ovviamente se Crocetta avesse perso, se io avesse perso, se fosse uscito con le ossa rotte dall'elezione a Roccolomela soprattutto, veramente sarei stato politicamente una persona proprio da buttare al macero. Fortunatamente così non è stata, quindi voglio dire il respiro. E dalla gioia delle elezioni regionali, a qualche preoccupazione comunale, dopo domani ci sarà il Consiglio Comunale, tra i 14 punti all'ordine del giorno indetti dal Presidente Garosi, spiccano due in modo particolare. Una, la sfiducia al primo cittadino di Roccolomela e un'altra, l'approvazione del bilancio di previsione. Non la preoccupa? No, non mi preoccupa perché penso che preparrà poi alla fine il senso di responsabilità. Qua guardate, io l'ho detto sempre e lo ripeto, un sindaco che non ha Consiglio Comunale è un sindaco sfortunato. Un Consiglio Comunale che sfiducia il sindaco non avrà grande fortuna nell'avvenire. Quindi io richiamo al senso di responsabilità. Guardate, io non avrei nessuna gioia, nessuna contentezza se il bilancio non venisse approvato e il Consiglio Comunale fosse sciolto e dovesse andare a casa. Come non avrei alcuna contentenza, ma giusto per l'andamento. Che senso ha presentare una mozione di sfiducia a sei mesi dalla scadenza elettorale? E' semplicemente proprio se si vuole perseguire un solo criterio, un solo sentimento, che è quello del rancore, quello dell'assio, che non credo però che alberghi in tutti i consiglieri comunali. Quindi penso che la ragionevolezza poi arriverà a trionfare e ci sederemo e vedremo un po' di ottimizzare questi ultimi sei mesi. Francamente lo troverei assurdo, troverei assurdo l'uno e l'altro che non venga approvato il bilancio e che venga fatta la sfiducia. Confido che l'uno venga approvato e l'altro non venga approvato. Dopodiché il Signore vede e provvede, non penso proprio, guarda io voglio godermi questi due giorni di gioia e vivere giorno per giorno. Poi alla fine ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io so quello che ho fatto e come mi sono comportato, non ho mai imbrogliato, non ho mai cambiato le carte in tavola e questo è il mio comportamento. Se altri ritengono che sia un comportamento censurabile vado avanti, ma ritengo, lo ripeto, che all'interno del Consiglio Comunale in maggioranza e in minoranza ci siano anche spunti di riflessione per poter in concordia, pur nella diversità delle posizioni, proseguire questo ultimo scorcio di campionato. De campionato scusate, ma il lapsus non è proprio un campionato di legislatura e che tuttavia a me sembra la stessa cosa perché ogni tanto mi sembra che il Consiglio Comunale si trasformi in derby accesissime piuttosto che... Ma fa parte anche questo, io non me ne lagno, non me ne lamento perché, ripeto ancora, meglio un Consiglio Comunale convulso, agitato, finanche litigioso, che un Consiglio Comunale assente. Io sono un cultore della democrazia e ho sempre detto che un sindaco senza il Consiglio Comunale è un sindaco azzoppato. È un sindaco che ritiene di poter fare tutto, mentre invece è giusto che ci sia il Consiglio Comunale che lo controlla. Io, guardate, tante volte nel corso di queste nove anni e passa mi sono trovato in disaccordo con le scelte del Consiglio e a volte, a volte, spesso le ho ingoiate. E dopo un po' di tempo mi sono accorto che le scelte, alcune si sono rivelate sbagliate, ma altre si sono rivelate improntate a saggezza da parte del Consiglio. E quindi io ne ho preso atto che veramente, se non c'è proprio un momento legislativo che sia da contrappeso al sindaco, veramente il sindaco rischia di fare sciocchezze grosse.